Buonasera ragazzi da Piero Spataro Allora, questo video è per quanto riguarda la partita di Roma-Empoli più le altre cose vi devo dire Stasera c'è stata la partita Roma-Empoli, vinta 2-1 per la Roma con tanta fatica purtroppo Allora, la Roma è andata in vantaggio con un gran gol di Esharavi, davvero uno dei gol più belli Con un bel destro a giro da fuori Che non ci arrivava Dragowski, come si chiama Poi arriva il pareggio dell'Empoli sull'autorete di Juan Jesus su pallina attiva Cioè, quello è scarso Juan Jesus, quello è scarso Avete capire? Non so come cavolo fanno a farlo giocare Quello è ex Inter Poi gioca nella Roma E' una pippa questo Juan Jesus Poi arriva il 2-1 di Schick Che qua si decide fino a fine partita Un'altra cosa su pallina attiva, su un bel cross di Florenzi Quindi è finito il primo tempo 2-1 per la Roma Poi inizia il secondo tempo Nel finale è successo di tutto Che l'Empoli ha avuto in mano la partita dopo l'espulsione di Florenzi Che è davvero Era già monito, giusto? E infatti Se l'è preso meritatamente Sì, Florenzi ha protestato per il pareggio dell'Empoli, se non vado errato E poi per l'espulsione Per la fine si è fatto Poi, di proposito, quasi vicino al noventesimo E' arrivato il 2-2 Dell'Empoli Però Col fallo di mano Era giusto annullarlo Punto Poi Poi si rette bene la Roma E ha vinto questa partita Quindi si porta a meno 3 sull'Inter e a meno 4 sul Milan La lotta Champions è ancora aperta Qui La lotta tra il terzo e il quinto posto Chi rimane terzo, chi rimane quarto e chi rimane quinto Poi Parlavate di allenatori voi? Voi youtubers della Juve? Va bene, parlo anch'io di allenatori State tranquilli Allora Allora Guardiola stavate parlando di prima Allora Guardiola mi piace tanto E' uno degli allenatori più bravi del mondo Purtroppo rimane ancora a City Per me era un sogno Poi quando ho visto Zinedine Stavate parlando di Zinedine Zidane? Zinedine Zidane L'ho sempre Sostenuto Sia come calciatore Sia come allenatore Dato che E poi è tornato ad allenare il Real Madrid Zinedine Zidane Non so come mai Pensavo che Io Per me è un peccato Ehm Tim Vi immaginavate eh? Zinedine Zidane Nuovo allenatore della Juve La prossima stagione eh? Vediamo cosa succederà Domani sera La partita Dell'inferno Juventus A Tredico Madrid Ok Vabbè raga Non ho niente altro da aggiungervi Vi ho detto la mia Allora Se volete Di nuovo A un altro allenatore Come tipo Antonio Conte Vabbè Qualche Juventino Dice che è un passo indietro E poi qualche Qualche altro dice Sarebbe ottimo A me non me ne fregarebbe niente A me mi interessa solo di Di Onorare questa maglia Di sostenere questi colori bianco neri Lo capite? Sì o no? Vabbè Domani dobbiamo Non pensiamo Non pensiamo a Zinedine Zidane Di proposito Pensiamo alla partita di domani Ok? Va bene Allora Domani Si sostiene la squadra Non ci sarà sciopero Meno male Tutti gli altri hanno parlato di sciopero Ma Meno male che non ce n'è di sciopero Ok? Vabbè raga Per me Questo è stato un video molto serio Così Si sostiene la squadra Si incita pure Bisogna anche incitare la squadra I giocatori non devono ascoltare Allegri Perché Si sa chi è Allegri Ricordate le parole di Tevez nel maggio 2015 Nella semifinale di Champions contro il Real Madrid Quando la Juventus ha vinto 2 a 1? Quando è stato sostituito Tevez con Pereira Ha detto Cagon E infatti è vero Lui è un Cagon Esatto E io a questo volevo riferirvi Comunque sempre Se il video di oggi vi è piaciuto Vi invito Di lasciare un mi piace Iscrivervi al canale Cliccate la campanella per ricevere le notifiche Poi commentate qui sotto E condividete Al prossimo Ci vediamo Forse Domani sera O qualche oretta Per I miei prossimi video Ciao E sempre fino alla fine Forza Juventus Ciao belli